Gentili telespettatori, buona giornata a sondaggio Demos per il quotidiano La Repubblica. Fratelli d'Italia oggi è al 28,6%, il PD al 20,4%, il 5 Stelle al 17,2%, la Lega al 7,8%, Forza Italia al 6,6%, Azione al 4%, Italia Viva 2,4%, Europa Verde 3,6%, più Europa con Emma Bonino 2,6%, altri 6,8%. Possiamo dire che in questo sondaggio di La Repubblica, a differenza di altri sondaggi, qui il PD è sopra il 20%, i 5 Stelle fortissimi e guarda caso Fratelli d'Italia è sotto il 29% e La Lega è sotto l'8% e Forza Italia sotto il 7%. Diciamo che è un po' curioso, se mi permettete il termine. Grazie a tutti e arrivederci a presto.